Museo etnografico Giovanni Podenzana Il Museo etnografico della Spezia, nato alla fine dell'Ottocento come sezione dei Musei Civici Cittadini, è stato trasferito nel 2005 nei locali dell'Exoratorio Quattrocentesco di San Bernardino, in pieno centro storico, condivisi con il Museo Diocesano di Arte Sacra. Gli oltre 4.500 oggetti riferibili all'etnografia della lunigiana storica e all'antropologia di popoli extraeuropei furono donati al museo e alla città da Giovanni Podenzana. La Spezia 1864-Brugnato 1943, eclettico protagonista della cultura locale a cavallo dei due secoli, musicista, etnografo, viaggiatore e naturalista, al quale oggi il museo è intitolato. La raccolta di etnografia della lunigiana, l'unica esposta permanentemente fra quelle che compongono il ricco patrimonio del museo e considerata fra le più importanti d'Italia, fu iniziata nel 1906. Comprende circa 2.000 oggetti provenienti dalla Val di Vara e dalla Val di Magra ed è costituita soprattutto da materiali tessili e lignei databili fra la seconda metà del XVIII e i primi anni del XX secolo.